Convegni e convention sì, partite, gare o eventi sportivi invece no, almeno per il momento. A quasi otto mesi dalla sua inaugurazione l'Auditorium Scavolini si sta incanalando in questo utilizzo che a detta della consigliera comunale Giulia Marchionni non rispetta la polifunzionale destinazione d'uso pensata inizialmente. Un tema sul quale la Marchionni ha voluto fare luce presentando in merito un'interrogazione in consiglio comunale. Ho chiesto se l'Auditorium Scavolini, almeno per come era stato venduto fin dall'inizio dell'opera, sarebbe tornato ad essere un luogo per lo sport, perché questi cittadini si stanno chiedendo. A un certo punto nelle varie conferenze stampa, nei comunicati, sembrava che dovesse diventare un luogo in cui, perché per terra, avrebbero potuto giocare le squadre delle serie magari più elevate della città, basket, pallavolo, di questo si stava parlando. Poi in questi mesi siamo entrati più volte all'interno dell'Auditorium e ci siamo resi conto che a terra c'è solo una distesa di cemento grezzo. Allora ho chiesto all'amministrazione comunale se qualcuno avesse mai acquistato questo parquet e se l'Auditorium davvero potesse diventare un luogo per gli eventi sportivi e se gli eventi sportivi nel prossimo anno siano stati previsti. L'assessore ci ha risposto che nessun evento è previsto, che il parquet non è stato acquistato e quindi in questo momento quel luogo, nonostante la grandissima difficoltà nel trovare spazi per lo sport in città, non potrà essere fruito per fare manifestazioni sportive, ma diventerà e rimarrà in questo momento un luogo per convegni e per altre iniziative. Crediamo che sia davvero un problema a fronte dei 10 milioni di euro spesi per ristrutturarlo. Risposta in cui Pozzi ha rivendicato quanto il luogo sia già diventato centrale nel palisesto culturale della città nella quale mancava un impianto con quel tipo di capienza e struttura. Dal 29 di febbraio ad oggi, tolti due mesi e mezzo durante i quali il ROF, Rossino Opera Festival, ha realizzato gli allestimenti, fatto le prove e realizzato gli spettacoli, tolti quei due mesi e mezzo lì, le altre settimane, ogni settimana, ogni mese c'è stato un evento importante. L'ultimo in corso in questi giorni è un convegno nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, un concerto nazionale in occasione del 250esimo della Guardia di Finanza, prima ancora un altro evento dedicato a Battiato con la Benelli Week, e così via anche nelle settimane precedenti, Cagami e tante altre iniziative. Oggi, inaugurato nel 2024, è diventata una struttura importante, contenitore culturale importante in più, ci auguria nel prossimi mesi, quindi in un futuro prossimo, potrà diventare un luogo che potrà ottemperare sia le esigenze sportive che le esigenze legate all'intrattenimento, cercando un'economicità nella gestione che possa alternare, ad esempio, in due semestri questi due tipi di progettualità e di utilizzi diversi.